Nessun pericolo per la popolazione, ma i valori inquinanti riscontrati all'Arta impongono di proseguire monitoraggio della qualità dell'aria. E questo, in sintesi, il contenuto della relazione consegnata ieri in tarda serata al sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, dei tecnici dell'Arta, che hanno effettuato lo studio dalla postazione collocata alla frazione Marane. I dati rilevati, si legge nella relazione, mostrano l'inalzamento dei valori degli inquinanti, ricercati soltanto in alcune ore della notte e in determinate condizioni di vento e temperatura. Tali valori, però, riscontrati solo per alcune ore, non risultano pericolosi per la salute, in quanto vanno letti riferimento ad esposizione media su tempi lunghi, tre mesi, sei mesi, un anno, e non per esposizione di durata di qualche ora. Ma il problema della qualità dell'aria non è l'unica preoccupazione per la gestione dell'emergenza. Ieri sera, al termine di una lunga riunione al COC, centro operativo comunale, i sindaci dei comuni colpiti dall'incendio, unitamente l'assessore regionale dell'area interna, Andrea Gero Solimo, e i presidenti delle province di L'Aquila e Pescara, hanno inviato un documento congiunto al prefetto dell'Aquila, al capo della protezione civile nazionale e al presidente della regione, per chiedere un intervento immediato e risolutivo con l'invio dei rinforzi dell'esercito e degli altri mezzi. Considerate le proporzioni che ha assunto l'evento, si legge in un passaggio del documento, siamo a chiedere un'implementazione dei mezzi aerei, aggiungendo i due canadere già presenti sul territorio, anche al minimo ulteriori tre, oltre che le unità dell'esercito, in modo da consentire l'interruzione della diffusione del fuoco e la risoluzione definitiva dell'evento.